Con una sopravvivenza media di 18 mesi, oggi il mesotelioma è una delle forme di tumore più aggressivo e difficile da trattare. Dall'epitelioma al sarcomatoide fino al bifasico sono molte le variabili con cui si presenta. La speranza è dunque legata alla ricerca che oggi sta esplorando nuove terapie, dalla immunoterapia fino all'impiego di device abbinati alla chemioterapia, a cui il mondo scientifico guarda con interesse, come spiega il dottor Giovanni Ceresoli, responsabile dell'oncologia medica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. I campi fondamentali in cui la ricerca sta lavorando sono quelli dell'immunoterapia, quindi della stimolazione del sistema immunitario con farmaci che in altri tumori hanno veramente cambiato la pratica di trattamento. Nel mesotelioma purtroppo, per le caratteristiche della malattia, l'immunoterapia, per come attualmente è praticata, per i farmaci che attualmente abbiamo, ha un'efficacia limitata proprio perché la malattia ha una biologia particolare, con un microambiente, come si dice, cioè un insieme di cellule attorno, che circondano le cellule tumorali, che hanno un elevato grado di resistenza all'immunoterapia. Gli studi sono ancora in corso, però probabilmente occorrerà tempo per capire bene la biologia di questa malattia, per trovare nuovi farmaci che vadano su tutte le componenti del sistema immunitario, anche su quelle che determinano resistenza. Un secondo settore di ricerca è quella dell'inibizione dell'angiogenesi, cioè del blocco della formazione di nuovi vasi sanguigni nelle cellule tumorali. Questo tipo di approccio purtroppo, a fronte di iniziali apparenti benefici, anche da studi recenti, si è dimostrato non efficace in associazione alla chemoterapia come prima linea di trattamento. Sono tutt'ora invece in corso studi nella seconda linea, sempre con i farmaci inibitori dell'angiogenesi. Altri campi di studio, come l'inibizione di una proteina chiamata mesotelina, che avevano suscitato inizialmente delle aspettative piuttosto interessanti, si sono rivelati, ahimè, non efficaci. Questa è una malattia, sostanzialmente una malattia orfana, quindi aperta a vari tipi di sperimentazioni, anche sperimentazioni innovative, come ad esempio una sperimentazione che utilizza insieme alla chemoterapia delle metodiche non farmacologiche, cioè dei device che producono dei campi elettrici a bassa intensità. C'è uno studio recente molto interessante e promettente che sembra dimostrare un potenziamento della chemoterapia con questo device, con questo dispositivo. Sono studi molto iniziali, ma assolutamente vale la pena di continuare. La cura virtualmente, cioè l'eradicazione della malattia, al momento è l'eccezione assoluta e non la regola in questa malattia. Esistono dei fattori genetici per cui uno, diciamo, è più predisposto, comunque risponde meno anche alle cure, magari piuttosto... Allora, c'è un campo, un settore della ricerca che sta indagando attivamente questi aspetti. Esistono alcune sindrome genetiche che predispongono al mesotelioma, nel senso che esistono alcune mutazioni a livello di alcuni gruppi familiari che sembrano, associate all'esposizione all'amianto, favorire una incidenza maggiore della malattia. Si tratta però di situazioni molto rare. Sono stati condotti studi anche in Italia, dove peraltro questo tipo di sindrome si è dimostrata estremamente rara. Quindi, per quanto sono le nostre conoscenze attuali, non esiste una predisposizione genetica al mesotelioma, o perlomeno non esiste nella grande maggioranza dei casi. Naturalmente, invece, a livello della genetica della malattia, cioè ogni malattia, ogni caso di mesotelioma è diverso, per cui sicuramente ci sono dei fattori di resistenza ai trattamenti, però è molto difficile indagarli. Ci sono alcuni dati iniziali che però al momento non hanno un impatto pratico nella nostra cura, nella cura dei nostri pazienti.